Al mattino piogge sparse su quasi tutte le regioni, eccetto sul Piemonte, Riviera di Ponente, Medio Tirreno, Medio Adriatico e Sardegna. Neve sulle Alpi Centro-Orientali oltre i 1200 metri, ventoso su mari e litorali. Al pomeriggio migliora sul Piemonte e sul Medio Adriatico, molto nuvoloso sul resto dell'Italia, con pioggia al nord-est, Riviera di Levante, Umbria, regioni tirreniche e al sud. Qualche temporale sulla Sicilia, neve oltre i 1300 metri su est-Alpi. Temperatura massima in rialzo al nord-ovest, in calo al centro-sud peninsulare e Sardegna. Dati servizio meteo-aeronautica, elaborazioni e grafica Epson. La splendida riproduzione dell'anello di Lana Turner è in edicola con gioievi e bijou. Suri T4 Mia madre... Era una negra e voi siete nelle stesse condizioni degli altri schiavi. Tutti possono esaminare prima dell'asta, vedrete la perfezione. La forza di un grande amore. È una schiava per te quella donna? Io la considero libera, chiunque la tratterà diversamente me ne renderà conto. Un amore oltre ogni barriera. Yvonne De Carlo Clark Gable La banda degli angeli Sabato alle 21 Suri T4 Carina? La nuova crema Venus contro le rughe, oggi ha l'effetto lifting potenziato. Distende visibilmente le rughe e la pelle si rassoda. Con Venus, sei bella. Bella da vicino. Graziosa. Graziosa! Caffè splendido, buono da soli, splendido insieme. Che fai? Più naturali che puoi provare. Per essere guida delle tue genti, progetta il giusto. Come l'aquila vola, quanto più alto possibile. Fernet Branca, carattere dominante. Le lasagne Emiliane Barilla hanno la sfoglia tirata d'arte, l'unica così ruvida e porosa. Per assorbire al meglio il sugo. E darti in soli 20 minuti il piacere delle lasagne che ami. Emiliane Barilla, veri Emiliane. Ford Focus Station Wagon benzina e 5 porte turbodiesel. Allo stesso prezzo, 26 milioni e 700 mila. Solo fino al 31 marzo. Lasciati dietro l'inverno. Fai rotta verso il sole della primavera con una crociera costa. Costa crociere, grande come il mare. Costa crociere, grande come il mare. Ogni volta che volete la purezza assoluta. Andate direttamente alla sua fonte. Acqua levissima. Purissima lei. Purissimi voi. Altissima, purissima, levissima. È matematico. L'unico passeggero col raffreddore si siederà proprio accanto a te. Per fortuna ci sono i fazzoletti Scottex Balsam, con balsamo protettivo, per far felici anche i nasi più irritati. Cosa rende il nostro Emmental svizzero così unico? Non è solo il buon latte crudo, né solo la lavorazione a mano, e neppure i buchi. È il tempo. Soprattutto il tempo. Lo sa bene chi ha provato almeno una volta il nostro Emmental. Formaggio svizzero. Il tempo. Lavora per noi. Ci sono cose che i burresti non finissero male. I pavesini, ad esempio. Perché sono solo farina, uova, zucchero, senza un grano di grassi in più. Così, ogni volta che puoi, ti mangi tutti i pavesini che vuoi. È sempre l'ora dei pavesini.